Ciao ciao ragazzi e benvenuti sul canale Jamma Plays Sono il Jamma e di professione sono un informatico ma come tanti di voi, anzi la stravanger parte di voi anche a me piace giocare ai videogiochi di tutti i tipi soprattutto sport, strategici, ambientati nella seconda guerra mondiale se possibile insomma un po' di tutto ho avuto l'idea di aprire questo canale perché nell'ormai pochissimo tempo libero ho deciso di condividere con voi qualche mio gameplay di giochi non con titoli eclatanti quindi per esempio non i classici PES, FIFA, Call of Duty e via dicendo per carità, magari sporadicamente qualche piccolo gameplay di questi giochi posso anche uploadarlo però prevalentemente voglio uploadare giochi, gameplay di giochi non dico di nicchia ma insomma di titoli meno blasonati faccio alcuni esempi, sono Beta Tester World of Warships attualmente sto anche giocando Football Manager ho da poco, da ieri ho comprato un gioco a 4€ su Steam di strategico a turni sulla seconda guerra mondiale insomma giochi non titoloni però giochi che comunque tutto sommato qualche ora di divertimento ripeto nel pochissimo tempo libero che ho ormai comunque giochi che mi fanno passare qualche ora di divertimento l'idea peraltro è quella di uploadare video nella forma più originale possibile nel senso non ho tempo neanche voglia di stare lì a fare editing su editing su editing su editing come vengono i video vengono finiranno così sul canale e quindi insomma chi ha voglia di seguirmi si iscriva al canale mi raccomando è una cosa fondamentale oppure mi può seguire su tweet scrivere via mail e vi dice insomma piano piano avremo modo di condividere vie di comunicazioni più o meno diverse come dicevo i video andranno su così come sono poco editing tanto gameplay commenti, suggerimenti, bestemmie e quant'altro no beh bestemmie no evitiamo di rovinare subito il canale però insomma anche le critiche sono sempre ben accette anzi sono costruttive e insomma chi più ne ha più ne metta tanto divertimento assicurato e buona visione sul mio canale ricordatevi però sempre che non si smette di giocare perché si invecchia ma si invecchia perché si smette di giocare ciao gente e al prossimo video